Prosegue la collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con la rassegna Collezioni Minime a Palazzo Lascaris, piccola esposizione di pubblicazioni e reperti naturalistici sistemati in due vetrine poste all'ingresso della sede del Consiglio Regionale. Il primo appuntamento del 2017 è con la sezione di Paleontologia del Museo, il cui patrimonio conservato è costituito da preziose collezioni di fossili di importanza storica e scientifica.